La bomba esploderà nel bar alle 13.20, adesso sono appena le 13.16, alcuni faranno in tempo entrare, alcuni a uscire. Il terrorista ha già attraversato la strada, questa a distanza lo protegge da un imame e poi la vista è come al cinema. Una donna con il giacone giallo, lei entra, un uomo con gli occhiali scuri, lui esce, ragazzi in jeans, loro parlano, le 13.17 e 4 secondi, quello più basso è fortunato e sale sulla desa, quello più alto invece entra. Le 13.17 e 40 secondi, la ragazza, lei cammina con un nastro verde nei capelli, ma quell'autobus di improvviso la nasconde. Le 13.18, la ragazza non c'è più, se è stata così stupida da entrare oppure no, si vedrà quando li porteranno fuori. Le 13.19, più nessuno che entra, pare. Invece esce un grassone calvo, sembra che si frughi nelle tasche e alle 13.20, meno 10 secondi, rientrerà a cercare i suoi miseri guanti. Sono le 13.20. le 13.20. Il tempo, come scorre lentamente, deve essere ora. No, non ancora. Sì, ora. Madonna, lei esplode. Madonna, lei esplode. Madonna, lei esplode. Madonna, lei esplode. Madonna, lei esplode è europee. gå av salve, bravo,erson saúde. Madonna, lei esplode. La ragazza, lei esplode. 때문ità ha la puntualazione. Non, cosa ambulante, alcala, lei esplode, nessun stran Ś pollo, pensate Cummina, sensuale, la batella, le 165 attacciaありがとうございました. Sa etme qui! Grazie a tutti.